benvenuti in questa guida top 7 televisori 8k di consiglio pro tra questi 7 abbiamo individuato il migliore il consigliato quello con il migliore rapporto qualità prezzo oltre che 5 valide alternative ma partiamo subito al settimo posto troviamo samsung tv la vera risoluzione 8k 4 volte la risoluzione di un tv 4k per un realismo dalla profondite quasi infinita con dettagli cost definiti vediamo la nostra valutazione una qualità generale eccezionale offerta imperdibile grazie allo sconto con caratteristiche quasi al top complessivamente un ottimo rapporto qualità prezzo il nostro punteggio generale è di 80 punti trovi ulteriori informazioni nel link in descrizione sesta posizione al sesto posto troviamo lg 86 q ned 996 petabyte pronto per lo switch off il tv lg integra lo standard dv bt 2 h e vc main 10 compatibile con il prossimo ecco cosa pensiamo una buona qualità generale imbattibile l'offerta a prezzo scontato un'estrema quantità di funzioni 3 stelle per il rapporto qualità prezzo il nostro punteggio generale è di 75 punti trovi ulteriori informazioni nel link in descrizione quinta posizione al quinto posto inseriamo samsung q 950 t tipologia q led smart tv da 85 predisposto a ricevere il nuovo digitale terrestre 2.0 infinity screen il bo vediamo la nostra valutazione qualità generale davvero eccellente nell'offerta assegniamo 3 stelle per le funzionalità raggiunge 3 stelle assegniamo 5 stelle per il rapporto qualità prezzo il nostro punteggio generale è di 83 punti trovi ulteriori informazioni nel link in descrizione quarta posizione al quarto posto non poteva mancare sony kd 65 ag 9 tecnologia tv oled risoluzione 4k ultra hd sony kd 65 ag 9 vediamo il nostro parere una qualità generale buona nell'offerta assegniamo 4 stelle con una straordinaria funzionalità eccezionale il rapporto qualità prezzo il nostro punteggio generale è di 81 punti trovi ulteriori informazioni nel link in descrizione terza posizione nel nostro podio inseriamo samsung q led samsung q led ultra hd tv 8k 65 q e 65 q 800 t 2020 prodotto nuovo nella vediamo la nostra opinione qualità generale davvero eccezionale imbattibile l'offerta a prezzo scontato con una straordinaria funzionalità ampiamente sopra la media il rapporto qualità prezzo il nostro punteggio generale è di 90 punti trovi ulteriori informazioni nel link in descrizione seconda posizione al secondo posto consigliamo lg if you're passionate about it and electronics li che bing up to date on technology and don't miss event as lightest details by smart tv lg ecco la nostra valutazione un'eccezionale qualità generale interessante l'offerta un'estrema quantità di funzioni eccezionale il rapporto qualità prezzo il nostro punteggio generale è di 88 punti trovi informazioni nel link in descrizione prima posizione vince la classifica samsung tv mai come prima con la risoluzione 8k la più alta di sempre realismo e profondi sono quasi infiniti tutto 8k il nuovo processore ecco il nostro parere una buona qualità generale favorevole l'offerta un'estrema quantità di funzioni nel complesso un buon rapporto qualità prezzo il punteggio è di 91 punti info in descrizione non dimenticare di mettere mi piace e iscriverti al canale